Siamo nel giardino della chiesa prepositorale di Erba con Monsignor Angelo Pirovano, prevosto e decano di Erba, per conoscere nel dettaglio l'evento del secolo per la città di Erba, la visita del Cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, che sarà a Erba il prossimo 29 maggio, in occasione del 25esimo anniversario della morte di Monsignor Aristide Pirovano. Monsignor Angelo, nella storia di Erba non era mai successo che il numero due del Vaticano, il braccio destro del Papa, arrivasse in città. Ecco, che significato assume questa visita Monsignor Angelo? Certamente ha un significato pastorale, non è certo una visita di Stato, è un significato pastorale collegato al 25esimo anniversario della morte di Padre Aristide, Monsignor Aristide Pirovano, vescovo missionario erbese. Ecco, questa visita quindi viene per ricordare l'esempio che appunto Padre Aristide ci ha lasciato, ma viene anche per confortare un po' il nostro cammino di fede. Ecco, il Cardinale Parolin è il primo collaboratore del Papa e quindi ci fa respirare un po' l'ampio spettro della Chiesa universale, e non richiuderci appunto nel nostro piccolo, ma essere aperti un po' all'universalità della Chiesa. Certamente a Erba un po' si sente questa universalità, nel senso che accogliamo anche profughi dall'Ucraina, accogliamo anche persone che vengono da fuori, però la presenza del Segretario di Stato è certamente un motivo di grande gioia, perché appunto ci fa sentire più vicino al Papa e alla Chiesa universale. Questa visita è stata possibile grazie a lei, prima di diventare prevosto e decano di Erba. Lei è stato segretario di Monsignore Dionigi Tettamanzi, già segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, e poi capo ufficio al personale nella Segreteria di Stato. E' in quanto tale diretto collaboratore del Cardinal Pietro Parolin. Che ricordi ha del Cardinale Monsignor Angelo? Il ricordo degli anni passati, 21 anni passati in Segreteria di Stato. Lui, quando io arrivai nel 1995, proveniente dalla Conferenza Episcopale, era un ufficiale, un consigliere di enunziatura, così si dice, nel termine tecnico del personale diplomatico, in servizio presso la seconda sezione della Segreteria di Stato, cioè quella per i rapporti con gli stati, mentre io ero nella prima sezione, quella per gli affari generali. Poi dopo, l'allora Monsignor Parolin divenne sottosegretario, succedendo a Monsignor Celestino Migliore, e come sottosegretario certamente ci sono stati motivi di contatto maggiore con lui, anche per lo stesso disbrigo degli affari della Segreteria di Stato. Poi dopo lui partì come enunzio in Venezuela per qualche anno, finché poi tornò in Segreteria di Stato con Papa Francesco come Segretario di Stato. Ecco, questo è un po' il ricordo degli anni trascorsi con lui. Ci sono stati anche occasioni di collaborazione, anche se le sezioni erano diverse dalla Segreteria di Stato, però di fatto sulle questioni del personale c'è stata occasione appunto di confronto, di dialogo, di incontro. Ma non solo, lei ha collaborato direttamente e anche indirettamente con tre papi, con San Giovanni Paolo II, con Papa Benedetto XVI, Papa Emerito, e poi con Papa Francesco. Ecco, che ricordi personali ha di questi tre papi? I ricordi sono tanti, penso che questa intervista non finirebbe più se dovessimo attingere a tutti questi ricordi. Certamente di San Giovanni Paolo II il ricordo è davvero grande, nel senso che era un vero uomo di Dio. Io ho in mente ancora quelle immagini di lui quando si entrava al mattino nella cappella privata con alcune persone per la celebrazione della Santa Messa, lui che era inginocchiato, con la testa assorta, con le mani alla testa, era in preghiera e tutti quando entravano facevano un grande silenzio per non disturbare la sua preghiera. Certamente i ricordi di San Giovanni Paolo II sono abbondanti, nel senso che con lui ho trascorso dieci anni in segreteria di Stato, ecco, durante il suo pontificato. Ci sono state diverse occasioni di incontro e dopo le messe private nella sua cappella, ma anche in altre occasioni più ufficiali. Ecco, ricordo anche le visite che feci, due visite anche con mia mamma, lo portai da lui e davvero lui era sempre molto attento alle persone che incontrava, anche negli anni dove la salute cominciava a declinare, però ha sempre avuto questa attenzione. Ricordo un particolare, eravamo nel 2000, l'anno santo del 2000, e vennero da me dodici miei parenti e amici e chiesi all'allora segretario di San Giovanni Paolo II, l'attuale cardinale Givitz, se c'era la possibilità di portarli alla Santa Messa nella cappella privata. E lui mi disse di sì. E al termine della Santa Messa, nel salone, il Papa ricevette tutti ad uno ad uno. Allora io, dopo averlo salutato, mi misi alla sua destra e gli presentai tutte le persone che erano con me ad una ad una e per ciascuno aveva uno sguardo di attenzione particolare. Poi successe alla fine che erano terminate queste persone che erano con me, si girò verso di me e mi disse che grande famiglia, allora abbiamo finito. Sì, Santità, abbiamo finito, ecco, ma ci sono tanti altri ricordi. Un altro ricordo molto arguto, che è quello di una torta. Ecco, erano venuti alcuni sacerdoti di Milano e avevano portato una torta al Papa, gli avevano consegnato questa torta al termine della Messa e gliela donarono al Papa e disse questo sacerdote così la potrà mangiare oggi a pranzo. E lui si ferma e col sorriso dice ma bisognerà vedere se le suore me la daranno. Ecco, quindi era davvero anche arguto. Poi Papa Benedetto l'ho conosciuto anche molto come cardinale, ecco, soprattutto perché lo si incrociava al mattino o all'ora di pranzo oppure lo si incrociava in piazza San Pietro. D'inverno portava anche il basco e ricordo sempre che quando ti incontrava se lo toglieva sempre per salutare. Ecco, questo gesto di attenzione da parte sua era davvero un gesto significativo. Poi come Papa, ecco, ci sono state le occasioni di incontro e poi Papa Francesco che appunto abitando a Santa Marta dove anch'io risidevo ecco, lì ci sono state davvero molte più occasioni di incontro proprio perché erano, si può dire, quotidiane queste occasioni di incontro e quindi anche occasioni in cui si poteva anche scambiare qualche parola, si poteva scambiare qualche frase o in sala da pranzo o nell'atrio quando lo si incrociava e poi dopo qualche altra occasione più ufficiale. Questi sono un po' i miei ricordi dei tre papi con cui ho lavorato in segreteria di Stato. Ecco, e poi nel novembre 2016 è tornato nella sua diocesi. Il carriera scuola le ha dato una responsabilità importante prevosto e decano del decanato di Erba. Ecco, come ha vissuto questo passaggio? Un decanato che è molto vasto, forse uno dei più vasti dell'Arcidiocesi di Milano che assomiglia più ad una piccola diocesi. Ecco, come ha vissuto questo passaggio, Monsignore? Ecco, io sono arrivato qui a Erba il 2 dicembre 2016 ma la nomina era del primo novembre e la presa di possesso il 10 novembre precedente. Non sono stato subito decano, nel senso che c'era già il decano qui ad Erba e sono divenuto decano facente funzione nel 2018 e poi dopo un paio di mesi ci fu la consultazione del clero per la nomina del nuovo decano e appunto lì divenne decano e poi dopo alla scadenza di nuovo un'altra consultazione e sono stato confermato decano. Ecco, il decanato di Erba non è il più grande della diocesi come numero di parrocchie, il più grande è Varese che ha 40 parrocchie, Erba sono 36 come Gallarate quindi diciamo il secondo decanato come numero di parrocchie. 36 parrocchie e attualmente sono così suddivise, ci sono 4 comunità pastorali, Erba, Eupilio, Suello e Alzate Brianza, poi ci sono 6 unità pastorali, cioè parrocchie unite nella persona dello stesso parroco e poi 10 parrocchie rette da parroci singoli. Ecco, questa è un po' la nostra realtà, quindi è una realtà abbastanza vasta. Ecco, a Erba abbiamo anche tanti paesi piccoli, però comunque sono tutte comunità che davvero richiedono un'attenzione, una presenza pastorale molto attenta. Bene, ma il cardinale Parolin viene anche in queste circostanze, avrà un momento particolare e sarà relativo all'inaugurazione del grande calice posto a lato della chiesa prepositorale. Un calice che negli anni passati è stato al centro anche di polemiche. Finalmente ha trovato la sua giusta collocazione. Sì, questo calice è davvero un'opera grandiosa, e per le dimensioni ma anche per la cura di ogni minimo particolare. È stato realizzato tutto da quest'uomo, Angelo Miotto, che è morto lo scorso anno. Certo, ora potrà vedere il suo calice dal cielo. Finalmente questo calice ha trovato una collocazione dopo che era stato tolto dalla piazza prepositorale per i lavori del 2004 e non aveva trovato alcuna collocazione. Nel frattempo però è stato ammirato in tanti luoghi diversi, a Orvieto, è stato portato ad Assisi, è stato portato a Caravaggio. Le occasioni per ammirarlo altrove sono state tante, però adesso questo calice ha trovato la sua giusta collocazione qui ad Erba, di modo che sia un segno per tutti, un segno, un richiamo alla spiritualità, soprattutto un richiamo all'Eucaristia, perché appunto il calice e l'ostia consacrata che è ritratta ancora presentano l'Eucaristia. Il dettaglio della visita del Cardinale Parolin è stato ormai abbozzato, è definitivo. Cosa prevede? Prevede che il Cardinale arrivi la domenica 29 al mattino da Desio, dove appunto è il giorno precedente per le celebrazioni del centenario dell'elezione a sommo pontificato di Pio XI, cittadino di Desio, la cui famiglia però era comunque originaria del nostro decanato, era di Rogeno. Ecco, arriverà quindi alle 8 e 45 e l'accoglienza sarà nella piazza Santa Maria Goretti, al numero 1, cioè la piazza della chiesa parrocchiale di Crevenna. E lì lo accoglieremo e con lui saliremo all'eremo di San Salvatore, dove appunto si recherà sulla tomba del venerabile Giuseppe Lazzati per dire una preghiera e poi incontrerà il responsabile generale e qualche persona appartenente all'Istituto Secolare dei Minescristi, quelli fondati appunto da Giuseppe Lazzati. E da lì potrà anche ammirare, se il tempo lo permetterà ovviamente, il panorama su Erba e sull'alta Brianza. Ecco, poi scenderà dall'eremo e alle 10 meno un quarto sarà al cimitero maggiore di Erba, dove sosterà in preghiera sulla tomba di Monsignor Aristide Pirovano. E poi alle 10 si recherà nella chiesa di Santa Eufemia e lì ci saranno degli incontri e dei saluti. L'incontro anzitutto con l'Associazione Amici di Monsignor Aristide. Ecco, ci sarà un indirizzo di saluto da parte del Presidente e del Vicepresidente dell'Associazione. Poi dopo saranno presenti anche i membri del Consiglio Pastorale, della Comunità Pastorale, del Consiglio per gli Affari Economici e poi anche dell'Associazione Quei del Masigot, che appunto in Santa Eufemia sono di casa. Ecco, sarà un'occasione per incontrare appunto queste persone. Poi dopo si recherà qui, in chiesa prepositorale, e una volta assunti i paramenti, alle 11 celebrerà la Santa Messa alla presenza, spero di tante persone, ma credo che non si farà fatica a riempire la chiesa, anzi, probabilmente qualcuno dovrà rimanere fuori. Ecco, celebrerà la Santa Messa alle ore 11, con celebreranno alcuni sacerdoti della comunità pastorale e della città e la Santa Messa, ecco, sarà davvero l'occasione per vivere il vero incontro, perché l'Eucaristia è l'incontro di Gesù con noi. Ecco, il Cardinale celebrerà con noi l'Eucaristia e quindi sarà parte del nostro cammino di fede con questa sua celebrazione. Al termine della Messa verrà presentato anche il calice, lo faremo in chiesa direttamente, nel senso che ci sarà una breve spiegazione del calice, e poi dopo si inviterà la gente a uscire, a recarsi in corrispondenza del calice monumentale, tra piazza prepositorale e corso 25 aprile, dove appunto ci sarà la benedizione e l'inaugurazione da parte del Cardinale. E qui terminerà un po' il programma del mattino, poi il Cardinale sarà a pranzo con alcune persone, ma non è finito il programma della visita. Il pomeriggio, alle ore 16, si recherà presso l'Oasi Francescana di Santa Maria degli Angeli, in via Clerici, e lì incontrerà un gruppo di profughi dell'Ucraina, i quali appunto sono ospitati nella palazzina contigua all'Oasi Francescana. Ecco, sarà il momento anche per manifestare la nostra vicinanza a queste persone che hanno dovuto lasciare la loro patria, le loro case, le loro famiglie. E poi dopo il Cardinale verrà condotto all'aeroporto di Milano, l'Inate, lì farà ritorno a Roma, in Vaticano. Bene, grazie, grazie a Monsignor Angelo Pirovono, Prevosto e Decano di Erba. Sicuramente sarà una visita importante del numero due della città del Vaticano, il braccio destro del Santo Padre, il Cardinal Pietro Parolin.